In un attimo tutto può cambiare. Questo è il titolo del film scritto e diretto da Rita Giancola, girato a Pesaro Urbino e che ha ricevuto nel 2023 il premio Sorriso per la disabilità e che sarà proiettato a Pesaro presso il Cinema Solaris il 28 maggio, un'opera che si inserisce al fianco dell'Auser per un messaggio chiaro di uguaglianza e di libertà, come ci racconta chi ha accompagnato questo film sin dalla sua creazione. Sono molto felice di avere questa opportunità di portare il film a Pesaro perché è un film che ha vinto in premio Rai Festival Tulipani di Settanera, premio Sorriso per la disabilità. Questo film nasce da un incontro dopo tanti anni con Ivan Cottini che già conoscevo perché quando aveva appena 15 anni ho colto subito il suo talento ed è stato protagonista di un mio spettacolo teatrale. Ci siamo rivisti dopo tanti anni con l'idea di fare qualcosa assieme. Io avevo in mente di lavorare appunto sulla disabilità in qualche modo, però lui mi propose proprio questa tematica specifica perché aveva conosciuto tanti ragazzi che hanno problematiche ma anche di sessualità. In questo caso specifico abbiamo deciso di affrontare la tematica disabilità e omosessualità. Questa idea mi è piaciuta tantissimo, io poi scrivo e sono molto veloce, quindi nel giro di pochi giorni ho scritto la sceneggiatura dove naturalmente Ivan è protagonista. Non ho raccontato la sua storia, è una storia completamente inventata, infatti non si parla della sua malattia ma si parla di un ragazzo che purtroppo resta disabile in seguito a un incidente automobilistico. È stato molto emozionante perché le immagini hanno da sole parlato e sono state in grata di trasmettere qualcosa che si è poi, spero, riflesso nella musica di questo corto. Spazio anche per il Solaris e per Hauser che si inseriscono da protagonisti come fossero veri e propri attori dell'opera cinematografica per promuoverne il messaggio ed il contenuto. È importante far ascoltare anche la voce di chi è più piccolo, di chi è più debole. Quindi questo corto che parla di disabilità, di diversità e quant'altro aveva diritto di entrare in sala con questo evento. Innanzitutto questa è la terza stagione che noi organizziamo in collaborazione col Cinema Solaris che io ringrazio in primis per averci dato questa possibilità a ritornare al vecchio Cineforum che si faceva molti anni fa dove oltre a vedere dei film a tema si discute proprio del film, quello che può essere le percezioni che uno ha avuto, cosa pensa e quindi io penso che sono quelle situazioni che portano anche a riflettere e abbiamo bisogno di riflettere perché ultimamente si corre troppo e si pensa poco. Sarà il 30 maggio alle ore 21, ci sarà presente la Rita Giancola che è appunto la regista e Ivan Cottini che è uno dei protagonisti, ci sarà anche tutto il resto del cast e sarà alle ore 21 al Cinema Solaris, l'entrata sarà a 6 euro, il biglietto ridotto perché appunto vogliamo permettere a tanti di poter venire al cinema e venire a godersi di questo evento.